Se contate di avere questo contatto più frequente con i diposti? Uno degli obiettivi, come abbiamo già spiegato, quando abbiamo voluto recuperare lo Stato del Tre Fontane è proprio quello di avere un luogo dove poter periodicamente avere un contatto diretto con la nostra gente perché abbiamo ovviamente spazi più idonei per poter ospitare più persone. Sappiamo che quando dichiariamo di aprire un allenamento al pubblico, il numero di persone che si presenta è molto elevato, questa è una grande gioia per noi ma anche una grande responsabilità per garantire la sicurezza. Quindi il Tre Fontane ci consentirà di farlo, ci consentirà soprattutto quando termineranno anche gli ultimi ritocchi alla seconda tribuna che ieri è stata aperta, ma che c'è eccezionalmente, visto un enorme afflusso, ma che dovrà avere qualche lavoro di completamento per renderla definitivamente agibile e quindi da allora saremo in grado di ripetere con più costanza un elettoropolo di lunedì. Grazie a tutti, teniamo Roma TV per favore.